Il sindacato unitario provinciale respinge in queste ore quelli che definisce i facili trionfalismi sull'annosa vicenda e l'autostrada Siracusa a Gela. Nell'otto Rosolini-Modica e a distanza di anni valuta il quadro complessivo della situazione ancora fortemente critico. Per Cigel, Cisle e Will c'è che, per bisogno di visibilità, nasconde altre verità con un riferimento non tanto velato ad alcuni deputati regionali della provincia. Ma non vogliamo abbandonare l'ottimismo, affermano in coro i sindacati, ma sembra francamente eccessivo. Oltre che fuori luogo, il tono trionfalistico utilizzato da certa politica. Siamo adesso in attesa della convocazione della conferenza dei servizi, così come proposto dall'onorevole Giuseppe Di Giacomo e da tutti condiviso durante la recente assemblea di Pozzallo. Dal sindacato unitario provinciale quindi la conferma dello stato di agitazione dei lavoratori del lotto Rosolini-Modica, aspicando al contempo lo sblocco reale nel più breve tempo possibile della situazione. Un dato è comunque certo, i sindacati non assisteranno passivi agli ulteriori arretramenti in campo e si faranno abbindolare testuali parole dei tre segretari scifo, sanzare e bandiera da facili e poco realisti manifestazioni di entusiasmo, dettati dal bisogno di visibilità in funzione dell'imminente campagna elettorale.